buongiorno sono franco rebecchi oggi parleremo dell'apparato normativo italiano rispetto al BIM, quindi della norma 1.11.337 e del piano di implementazione del BIM nel codice appalti. L'Italia si è dotata di una normativa nazionale avviando un importante gruppo di lavoro che ha prodotto la normativa 1.11.337. In precedenza però vi erano stati altri decreti che avevano introdotto l'implementazione del BIM. Il primo è il decreto numero 50 del 2016 del codice appalti dove all'articolo 23 aveva introdotto al comma 1 lettera H la possibilità di utilizzare strumenti elettronici specifici per la modellazione delle liste delle infrastrutture, quindi una prima possibilità di utilizzo del BIM che di fatto ha aperto l'implementazione di questo processo anche nella normativa degli appalti pubblici italiana. Nel comma 13 poi si diceva che le prestazioni appaltanti possono richiedere, visto che non era ancora obbligatoria per le nuove opere, nonché per interventi di recupero o di riqualificazione o per le varianti e lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici, richiamati al comma 1 e introduceva anche diversi concetti importanti, quindi guardando le normative europee e anche inglesi, quindi l'introduzione delle piattaforme interoperabili dei mezzi dei formati aperti, non proprietari, quindi l'utilizzo degli EFC e anche con la commissione Barattano quindi si dava tutta una serie di tempistiche per poi adeguare gli uffici amministrativi al recepimento di queste normative. Quindi poi avrebbe rimandato, l'articolo rimandava una norma successiva, l'introduzione progressiva dell'obbligatorietà del processo BIM negli appalti pubblici. Infatti con il decreto 560 del 1 dicembre del scorso anno 2017, in attuazione l'articolo 23, citando quindi la norma 50, questo decreto 560 ha introdotto l'obbligatorietà del BIM, quindi il decreto del codice dei contratti pubblici dove Graziano Del Rio, ministro di infrastrutture e trasporti, definisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del BIM prestazioni appaltanti, quindi l'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e per le infrastrutture. È una normativa che quindi introduce l'obbligatorietà quindi molto avanzata e dà come deadline il primo gennaio 2019, cioè dal 2019 tutte le stazioni appaltanti per opere pubbliche con importo pari o superiore ai 100 milioni di euro dovranno obbligatoriamente introdurre i processi BIM nella progettazione. Il decreto dà anche tutta una serie di tempistiche perché l'amministrazione pubblica implementi, forme personali, si doti di queste infrastrutture per poi poter ricevere questi progetti. Nella pratica significa che il futuro, l'interscambio fra la stazione appaltante e le imprese di costruzione sarà un interscambio tramite un semplice formato GFC. All'interno di questo modello completo di tutte le discipline architettoniche, impiastitiche e strutturali vi saranno tutte le informazioni che saranno poi definite da un capitolato informativo e quindi il general contractor consegnerà un progetto interamente modellato tramite un FC e la stazione appaltante dovrà con propri strumenti leggere questo modello e ricavarne tutte le informazioni. Quindi non vi sarà più uno scambio di tavole, disegni vettoriali, ovviamente cartacei, ma solo un file MC completo di tutte le informazioni. La normativa poi da una deadline che si svilupperà dal 1 gennaio 2019 fino al 1 gennaio 2025 con tutta una serie di step, quindi con gli importi prima di 100 milioni di euro, poi 50, poi 15, fino agli importi di un milione di euro e quindi dal 2025, dal 1 gennaio 2025, tutte le opere pubbliche dovranno essere progettate in BIM. Questo significa che l'amministrazione per i grandi progetti, l'amministrazione pubblica ha un anno di tempo per i grandi progetti per adeguare le proprie strutture e ha invece 4 anni di tempo per adeguare tutti i propri organismi ai vari livelli per recepire questo flusso di lavori, questi modelli BIM. La normativa più importante che è stata però implementata in Italia è la normativa UNI 11.337, cioè la gestione digitale dei processi informativi della costruzione BIM, mentre precedentemente abbiamo visto una norma che introduceva l'obbligatorietà, la norma UNI 11.337 che cita gestione digitale dei processi informativi della costruzione BIM, è una norma che disciplina tutto il processo di modellazione BIM. Una norma che ha visto un gruppo di lavoro ampio, che già dal 2009 si è ritrovato, rappresentato dai maggiori stakeholder privati, quindi Confindustria, Ance, Lega Coop, Consigli di Nazioni e Professionisti, produttori componenti e software e anche stakeholder pubblici tipo il MIT, le regioni, le università, il CNR che insieme hanno elaborato una norma molto completa ed evoluta che rappresenta quindi una pietra miliare per lo sviluppo del BIM in Italia. La norma è divisa in 10 sezioni, andiamo a vedere in generale le sezioni di cosa parlano, abbiamo la parte prima che parla dei modelli e oggetti elaborati, quindi introduce al BIM attraverso la precisazione e la divisione dei concetti, quindi dati informativi dei modelli, elaborati i modelli, dimensioni digitali 1 e 7D, maturità digitale, quindi le varie aspetti evolutivi, la maturità e il passaggio graduale da progetti digitali fino ai progetti BIM completi, modelli oggetti digitali, processi digitali, quindi la parte 1 definisce gli aspetti generali della gestione digitale del processo informativo nel settore delle costruzioni, quindi strutture evicolo-informativi, la struttura informativa per implementare il processo. La parte 2 ha classificazione e denominazione on-working, definisce tutte le definizioni e classificazioni dei sistemi, la parte 3 introduce gli schedi informativi digitali log e loi, che in questo caso la normativa italiana si differenzia, quindi non ha un level, un load, ma un level of detail, ma il level of detail è composto da un loi, un level of information, un level of geometry, quindi si differenzia dagli altri definizioni anglosassoni, introduce la parte 3, l'anagrafica, quindi il bando e il quadro economico, il territorio, quindi un dossier sull'inquadramento territoriale, il cantiere, un dossier sul cantiere e la manutenzione, quindi un dossier sulla manutenzione, introduce il sistema della scheda, il sistema, quindi la scheda tecnica dei componenti, il lavoro, quindi il dossier delle lavorazioni su un componente e la risorsa, quindi anche le lavorazioni e i dpi di sicurezza. La parte 4 del 11.337 introduce gli oggetti, i load e i usi del modello, specifica quindi gli obiettivi di ciascuna fase del processo, introdotto da parte 1 e definisce una scala comune del livello di sviluppo del load. In questo caso i load sono differenziati rispetto alla normativa anglosassone perché sono caratterizzati da una lettera che è una diversa denominazione e definizione italiana, introduce anche il load relativo al restauro e alla ristrutturazione, quindi dei beni storici. Quindi questa parte 4 si focalizza su usi e obiettivi, sull'entità e oggetti e load, sul load spazio, load architettura, load struttura, load edificio, load restauro, che hanno tutte una denominazione con una lettera. La lavorazione, l'approvazione, la verifica e gli elaborati informativi. Infine la parte 5 parla del capitolato informativo dei flussi funzione, molto importante il capitolato informativo che definisce quindi a priori quali saranno i dati informativi da scambiarli e le modalità, quindi il capitolo informativo, capitolato, i livelli di coordinamento, le interferenze geometriche come verranno quindi definite, le incoerenze regolamentari, l'ambiente condiviso dei dati del common data environment, le funzioni e i flussi. La parte 6 è un esempio di capitolato informativo. Ecco, con questa normativa quindi l'Italia si è dotata di uno strumento molto avanzato che gli permette di entrare di diritto nei paesi avanzati nell'implementazione, almeno normativa, del processo BIM.